Lecce, 14 apre, il dramma al femminile The Parties Over della francese Marie Garelways vince l'Ulivo d'Oro premio Cristina Soldano al miglior film, della 19 barra edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce che si conclude oggi. Il premio per la miglior sceneggiatura va a Stianette Bosklo per Perkobain di Nanook Leopold, il riconoscimento per la miglior fotografia a Martin Miklozik per Yellow Wea e il premio speciale della giuria a Disappe Arance di Budwin Cole, che vince anche il premio del pubblico. Tra gli altri riconoscimenti assegnati al Festival il premio SNGC per il migliore attore europeo a Goran Bogdan per Agape di Branko Schmidt e il Fipresci a Scari Motor Diana Urushese. La 20 barra edizione del Festival si terrà dall'8 al 13 aprile 2019.